Alleato in arrivo. Nuovo a B-O-Lens. A sotto controllo. Abbiamo perso il comando. Missile Predator alleato in arrivo. Missile Predator alleato in arrivo. Non si rai Predator. Elicottero in accendere. Aeroguardia AH-6 in attesa di ordine. Aeroguardia AH-6 alleata in arrivo. Cobra alleato in arrivo. Approvvissi per l'inferno. A sotto controllo. Missile Predator disponibile. Aeroguardia AH-6 alleata in arrivo. Missile Predator alleato in arrivo. Missile Predator alleato in arrivo. Missile Predator alleato in arrivo.